... Anche se voi siete qua a camminare assolutamente per caso, mi puoi dire solo fase 3? Fase 3, comunque stiamo andando. Sì, era per creare suspense. Il flash mob di solito non dovrebbe sapere niente nessuno, quindi era per quello. Ah, hai ragione. Quindi tu stai andando a fare shopping? Sì, era Feltrinelli, vado a vedere se c'è il libro. Vedi? Sì, sì. Che libro pensavi? Ma non lo so, vedo un po' cosa c'è e faccio sempre un po' di shopping momentaneo. Siamo sopravvissuti, già questo è qualcosa. Grazie a tutti.